salve a tutti a questo importante update di albicicco 9899 come avete capito all'immagine di sfondo per bacco comunque l'immagine bella da noi perché noi diciamo non facciamo non allo gm solamente solamente qualità prima mano niente produzione di fabbrica comunque potete capire dalla scritta new channel per vedere nuovo canale abbiamo pensato di rifondare e ricreare il nostro canale bccom 9899 vi diciamo i primi motivi per cui abbiamo voluto ristrutturare in un certo senso il termine più giusto intanto è perché il canale non ci piace più no diciamo prima ci piaceva erano molto appassionati ma ora magari dire che non ci diverte è un pochino sbagliato più che altro non abbiamo la passione che avevamo i primi mesi sinceramente quando registravo prima era un evento un divertimento adesso quasi un peso un obbligo e tra l'altro io ho iniziato il liceo quindi mi devo concentrare sugli studi almeno in questa prima parte io vado ancora la sigla nido quindi per me non ci sono problemi con i suoi amici picchi con i suoi amici i falchetti niente però con le notti di picchi mi ha fastidio sì infatti dobbiamo risolvere questo bullismo giovanile sì però una volta è avvenuto la passione no un condor però mi ha salvato che gentile che gentile comunque principalmente vogliamo fare un canale più caldo cioè più rilassante non che tipo abbiamo gli occhi riettati di sangue dalla paura di sbagliare forse è un croccetto con la rabbia questo comunque diciamo non vogliamo farse di cosmo di fantagenitori forever mi raccomando cioè certamente mi raccomando l'importante è che non dobbiamo avere lo stress della registrazione cioè forse abbiamo solo noi però principalmente nella parte iniziale ci vogliamo ci vogliamo concentrare su delle recensioni per esempio Luigi's Mansion come potete vedere all'immagine che abbiamo ricominciato a giocarci è veramente un capolavoro in tutti i sensi non direi che grafica sia in mente anche fatta bene perché è abbastanza divertente vederlo sia i fantasmi che il professor Stamick comunque è proprio bella anche la modalità di gioco la storia naturalmente la musica vabbè è inutile dirlo una domanda ma la Splunk 3000 è un bel gioco poi abbiamo pensato anche di fare i video a casa così vi dà molto tanto e così i video divertenti quelli che ci capitano e anche l'explay e questo ce ne parli tu Wink la parola a te ecco il microfono scusa io che ne so cioè ora è improvvisato di che ne sapevo dire cioè praticamente c'è praticamente vuol dire fra sicuramente li faremo fra molto cominceremo l'explay non lo so facciamo un po' più tardi comunque diciamo quelli che volevo fare prima non ho detto non ho detto che li faremo perché la più grande l'explay comunque sicuramente se state vedendo questo video abbiamo cancellato tutti i video forse non è uno quello che Barang fanno perché stiamo registrando prima di cancellarli ritorna il mio paradosso cioè io registro nel passato e voi mi ascoltate nel futuro vabbè questo qua è il paradosso Romano Alberto comunque mi raccomando ogni volta che fate un canale dovete divertirvi a farlo quindi se cominciate a sentirlo con un peso smettetela perché sarà brutto per voi e per chi vedrà i vostri video perché non avranno il divertimento che possono avere diciamo così con freschezza con piacere proprio a registrare quindi speriamo di rivederci presto anzi ci rivederanno sicuramente presto un saluto da Albichico 2899 quindi speriamo di fare più video insieme buona fortuna ciao 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 ciao